Ben trovati un aggiornamento con la tendenza per il fine settimana estate dinamica e variabile almeno per il centro nord spesso insidiata da qualche temporale e di fatti la grafica è emblematica per quello che succederà nel weekend ancora alta pressione su parte del sud ma guardate tra sabato e domenica c'è questa circolazione depressionaria in quota in arrivo dalla Francia che viaggerà lungo le regioni settentrionali e proprio sabato causerà qualche temporale a tratti anche di forte intensità al nord ovest e sull'alto nord est poi domenica scivolerà anche sul lato adriatico qualche veloce piovasco specie sulla drossale peninica con calo delle temperature dettagli maggiori come sempre sull'app di Trebi Meteo